Nel periodo estivo non trascurate i vostri occhi, anzi abbiatene ancora più cura che nel resto dell'anno per scongiurare il distacco della retina, le cheratiti e le congiuntiviti che possono avere anche gravi conseguenze per la vista. Il distacco della retina si verifica infatti più frequentemente proprio d'estate, spiega il professore Leonardo Mastropasqua, direttore del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in oftalmologia, professore ordinario di oftalmologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e direttore della Clinica Oftalmologica dell'Ospedale di Chieti. La parte esterna dell'occhio che è la congiuntiva e la cornea può soffrire sia dal punto di vista della temperatura che del sole preso senza degli occhiali giusti perché arrivano dei raggi ultravioletti che possono creare delle sofferenze a livello della parte esterna dell'occhio. Poi invece l'altra cosa è la disidratazione vera e propria che viene creata dal caldo eccessivo e dalla temperatura elevata e dai raggi solari. Quindi questo avviene nella parte posteriore dell'occhio dove noi abbiamo il corpo vitrio che è attaccato alla retina che è 90% acqua che ovviamente se si esistirata si va a concentrare va quindi a tirare sulla retina e possiamo avere dei distacchi di retina. Tanto è vero che in estate il numero dei distacchi di retina è fortemente aumentato. Noi stiamo operando qui praticamente 15 distacchi di retina una settimana e quindi voi capite che è anche di più, ci sono dei giorni che abbiamo operato 6-7 distacchi di retina in un giorno. Bere molto e quali altri preziosi consigli può dare a chi ci sta seguendo? Ma in primo luogo devono portare gli occhiali da sole, anche i bambini, perché noi sappiamo che come noi mettiamo le creme per andarci a difendere da quelle che sono le ustioni dovute ai raggi ultravioletti e alle alte temperature, siccome sull'occhio abbiamo l'epitelio pigmentato specie sulla retina, la stessa cosa è sull'occhio. Bere moltissimo che è una cosa che ritengo fondamentale, specie per chi corre, perché corre nelle mattine fresche, al mattino quando sfruttano di meno e idratarsi, idratarsi tanto, questa è l'altra cosa. Terza cosa, farsi controllare la retina dall'oculista, farsi controllare la retina perché se ci sono delle micro lesioni, queste micro lesioni vanno trattate con il laser e quindi una volta chiuse queste micro rotture non succede niente. E poi ai primissimi segni che è il paziente, voglio dire per esempio di mosche volanti, rapide che vengono, oppure di segnali, di avere come delle opacità periferiche nel campo visivo, di notare come delle micro aree in cui non si vede nel campo visivo, subito andare al prodotto soccorso. Noi ricordiamo che noi siamo un giorno di eccellenza e abbiamo il prodotto soccorso che ha perso 365 giorni su 365, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.